Se ti piacciono delle curiosità più assolute e strane di questo mondo, allora sei nel video giusto. Rimani fino alla fine perché sono sicura che non lo sapevi. Intanto ti auguro un benvenuto in questo video di ASMR Therapy. Se questo tipo di contenuti ti rilassa, ricordati di iscriverti al canale, di lasciarmi magari un like e di scrivere nei commenti quale curiosità di quelle che andrò a dirti ti è piaciuta di più. E allora, come ormai lo facciamo da tempo, ripartiamo con questa rubrica di curiosità più assurde di questo mondo. Andiamo a scoprirla assieme. Io vi anticipo, anzi vi ammetto, che le curiosità che andrò a leggere non le ho controllate prima, nel senso che sono delle curiosità nuovissime anche per me. E le scoprirò appunto leggendo insieme a voi. Allora, partiamo con la prima curiosità più assurda di questo mondo. Le capre hanno rettangoli di pupillette, non rotonde. Le pupillette a forma di rettangolo delle capre consentono loro di avere un campo visivo più ampio e una delle migliori percezioni della profondità, utile per evitare i predatori. Ok, la curiosità numero due. In Islanda, che a me piacerebbe visitare tantissimo, non ci sono mai andata. Detto ciò a parte, in Islanda ci sono sagre per celebrare il gelato. In Islanda, dove il gelato è molto popolare, vengono organizzate sagre e festival dedicati a questo dolce desert. Ok, pensavo che ero sempre convinta che l'Italia fosse il paese principale per questo dolce, quindi per il gelato. Passiamo alla curiosità numero quattro. No, numero tre, scusate. Mi confondo, cominciamo bene. Il numero tre. Il DNA umano è condiviso al 50% con le banane. Nonostante sembri incredibile, il DNA umano e il DNA delle banane hanno circa il 50% di sequenze genetiche in comune. Curiosità numero quattro. I tardi gradi, noti anche come orsi d'acqua, possono sopravvivere alle condizioni estreme dello spazio e sono stati trovati vivi fuori dalla stazione spaziale internazionale. I tardi gradi sono microscopici animali, ecco perché, estremamente resistenti, in grado di sopravvivere a temperature estreme, radiazioni e pressioni atmosferiche, il che li rende capaci di vivere nello spazio. Per un attimo ho pensato che si trattasse degli orsi. Ok, passiamo alla curiosità numero cinque. Alcuni pesci possono camminare sulla terra. Ok, questo forse l'avevo già detto un tempo fa, non è così tanto nuova questa, vabbè, ugualmente. Esistono specie di pesci come il pesce serpente che possono muoversi sulla terra per brevi distanze grazie alle loro pinne adattate. E l'avevo già detto, ma adesso lo ripeto che effettivamente un mese fa avevo visto questi pesci che addirittura dormono nel fango e riescono a sopravvivere stagioni intere senza acqua, quindi senza acqua corrente, senza fiume. Poi quando arriva il periodo delle piogge fa ad inumidire ancora di più il suolo e questi pesciolini si risvegliano, camminano un po' sulla superficie e rientrano nel corso d'acqua. Non mi ricordo se si tratta dello stesso pesce. Questa volta l'avevo visto sul Focus TV, ecco, che a me rilassa un sacco guardare queste storie sugli animali e magari ogni tanto di qualcuna mi ricordo anche. Ok, passiamo alla curiosità numero 6. Ok, ma dai, le formiche possono sognare. Studi scientifici hanno dimostrato che le formiche hanno cicli di sonno e sono in grado di sognare durante il sonno REM. Ok, interessante. Chissà cosa sognano. Curiosità numero 7. Il fiore più grande del mondo è il rafflesia e può raggiungere un diametro di oltre un metro. La rafflesia è una pianta parassita che produce fiori enormi e dal forte odore putrido. Ok, ne ero entusiasta per un attimo, però passiamo alla curiosità numero 8. I pinguini hanno delle ghiandole speciali che filtrano il sale dell'acqua marina bevuta. Per sopravvivere i pinguini hanno sviluppato chiandole che eliminano il sale in eccesso, assunto bevendo acqua marina. Ok, quindi loro bevono acqua marina. Curiosità numero 9. Esiste un tipo di alga, la caulerpa taxifolia, che può essere considerata immortale. Questa specie di alga può, teoricamente, continuare a crescere indefinitamente senza mostrare segni di infecchiamento. Peata lei. Curiosità numero 10. In Giappone esiste un'isola popolata principalmente da conigli. L'isola di Okunoshima, conosciuta anche come Rabbit Island, è famosa per la sua popolazione di conigli selvatici che si muovono liberamente. Che carino. Curiosità numero 11. I polli possono continuare a vivere anche dopo esser stati decapitati a causa di come è strutturato il loro sistema nervoso. Alcuni polli possono continuare a muoversi anche dopo la decapitazione a causa della presenza di un sistema nervoso meno centralizzato rispetto a quello degli esseri umani. Curiosità numero 12. Il nome completo della Barbie è Barbara Millicent Roberts. La Barbie, celebre pambola prodotta dalla Mattel, ha un nome completo che include il cognome Roberts. Ma dai, questa non la serve più. Le tigri hanno strisce sulla pelle, non solo sul pelo. Anche se le strisce delle tigri sono più evidenti sul loro mantello, esse sono presenti anche sulla pelle, aiutando a mimetizzarsi meglio nell'ambiente. Credo che la stessa cosa riguardi anche le zebbre. Curiosità numero 14. I bruchi hanno 12 occhi, ma possono vedere solo contorni e luce. Nonostante abbiano molti occhi, la visione dei bruchi è limitata a distinguere solo la luce e i contorni. Curiosità numero 15. Esiste una specie di lumaca marina, la Cromotoris reticulata, che ruba i veleni delle spugne di mare per usarli come difesa personale. Questa lumaca marina è in grado di immagazzinare i veleni delle spugne di mare che mangia e utilizzarli come difesa contro i predatori. Furba. Curiosità numero 16. Gli elefanti possono riconoscere se stessi allo specchio. Gli elefanti sono una delle poche specie animali in grado di passare il test dello specchio, dimostrando una forma di autoconsapevolezza. numero 17. Il polpo ha tre cuori e il suo sangue è blu. Il polpo possiede tre cuori, uno dei quali pompano il sangue verso le branchie per l'ossigenazione e uno per il corpo. Curiosità numero 18. Il fumetto di Garfield è stato pubblicato per la prima volta il 19 giugno 1978. Garfield, il famoso gatto arancione amante del lasagne, è apparso per la prima volta nei fumetti nel 1978. Curiosità numero 19. Le mucche hanno migliori amiche e possono diventare ansiose se sono separate da loro. Le mucche sviluppano forti legami sociali con altre mucche e possono diventare ansiose se sono separate dalle loro compagne di allevamento. Può che carino. Ok, passiamo alla curiosità numero 20. La saliva delle lumache contiene un anestetico naturale. Quando le lumache si muovono su superfici aspre, secche o taglienti, la loro saliva produce un sottile strato che agisce come un anestetico, consentendo loro di spostarsi senza dolore. Wow. Mai sentita questa? Mai. Curiosità numero 21. Le giraffe hanno lo stesso numero di vertebre cervicali degli esseri umani. Nonostante il loro collo sia estremamente lungo, Le giraffe hanno 7 vertebre cervicali. Lo stesso numero presente nella colonna vertebrale umana. Ok. Numero 22. I papagalli grigi africani possono imparare a comunicare in modo complesso. Questi papagalli sono noti per la loro capacità di imparare e ripetere parole umane, ma sono stati osservati anche seguire compiti complessi e risolvere problemi. Numero 23. Le stelle marine possono rigenerare i loro arti. Se una stella di mare perde uno dei suoi arti a causa di un predatore o di un incidente può rigenerarlo completamente. A volte anche crescendo più arti di quelli persi. L'ultima curiosità per questa sera, quindi la curiosità numero 24. Le api ballerine comunicano la posizione del cibo attraverso una danza. Le api meliponine, una specie di api senza pungiglione, che bello esistono, comunicano la loro posizione dei fiori ricchi di nettare alle loro compagne di alveare, eseguendo una complicata danza, nota come danza a sciami. Carine queste api, mi piacciono. Queste erano le curiosità più strane di questo mondo. Se avete voglia fatemi sapere nei commenti quale di queste curiosità vi è piaciuta di più. Grazie e buonanotte. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.